La promozione della lingua friulana al centro di una nuova campagna di sensibilizzazione dell'Arlef che ha come testimonial l'istrionica Cattine, il servizio di Armando Mucchino. Qui calza al Furlan, al sa di plui, chi conosce il friulano sa di più. È lo slogan della campagna di sensibilizzazione e promozione realizzata dall'Arlef, Agenzia regionale per la lingua friulana. Nella presentazione a Udine è stato sottolineato come il parlare friulano ai giovani regali loro un bagaglio di vantaggi conoscitivi, culturali e sociali. Chi parla al friulano trasmette non solo una lingua, che è già questo un fattore importante, ma anche una cultura, una cultura millenaria che ha una grande storia. Chi parla più lingue fin dall'infanzia ha una serie di vantaggi che sono confermati dalle ricerche scientifiche. Far crescere la consapevolezza del parlare friulano in casa rappresenta una risorsa. È il messaggio attorno al quale è costruito, in particolare, il racconto dello spot video Kudumars. Kudumars? Loro sì che sono Kudumars che non fa bene mai per Furlanco e i figli. Se tu fa bene Furlanco e i frus, impari migliori le lingue e si può attendere un patrimonio culturalo unico. Fabio, cerci a manco! Testimonial dell'iniziativa Catine, estrionica appassionaria della lingua di Kendi. Come mai hanno affidato ad una lucana una campagna di sensibilizzazione per la lingua cultura friulana? Sicuramente per l'amore che ho io per questa lingua, che l'ho imparata nel bar, quindi nel posto proprio dove viene parlata nel modo più genuino. E quindi bene sono innamorata e questo amore si vede, si sente. Come si traduce in friulano? Testimonial. Eh, sono parole inglesi che entrano. Io direi testimone e mi sta anche bene.